con questo video tutorial andiamo a vedere come inserire i titoli di preferenza i titoli di preferenza si possono inserire solo dopo aver inserito o la sezione b1 e o la sezione b2 titoli preferenza si va su azioni disponibili si fa inserisci ed ecco che vengono elencate con ordine alfabetico le varie preferenze dalla b c d e f g h i l m ed n queste sono tutte le preferenze possibili in ordine di importanza vediamo per esempio qual è la preferenza a chi è insignito di medaglia al valore militare e al valore civile qualora cessato dal servizio e dunque si deve inserire si clicca qui si rappresenta il nome dell'ente la data il numero dell'atto di questo riconoscimento oppure il b il mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato il c l'orfano dei caduti o figlio dei mutilati degli invali e degli inabili permanente al lavoro per ragione di servizio nel settore del pubblico e privato o figlio degli esercenti le professioni sanitarie e degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio sanitari deceduti in seguito al alla sars cov contratta nell'esercizio della propria attività dunque vedete ci sono una serie di preferenze la più comune quella riferita ai figli a carico se chi ha dei figli a carico inserisce il numero dei figli a carico per esempio uno oppure due e poi chiaramente dopo aver fatto questo può andare a una volta compilato tutto a fare inserisci tra l'altro ci potrebbe essere anche il riferimento ad aver svolto con esito positivo un ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50 comma 1 quater del decreto legge 24 giugno 2014 numero 90 poi convertito in legge 11 agosto 2014 104 è una particolare preferenza proprio per il trattenimento in servizio ai fini presso gli uffici tribunali per i processi ai fini proprio di carattere amministrativo dunque sono anche preferenze particolari per cui bisogna vedere presso quale ufficio data di inizio e data di fine ci sono diverse situazioni particolari per cui dovete guardare con attenzione queste preferenze come essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti dalla società ampal servizi spa in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 ecco parliamo di particolari preferenze speriamo che questo tutorial sulle preferenze sia utile ai nostri telespettatori proprio per la compilazione della domanda per partecipare alla gradatoria 24 mesi ata di prima fascia e provinciale arrivederci